Salve a tutti, sono Giulio Ippo Focciaccello, sono l'amministratore delegato del CREA, nonché il presidente dell'associazione non profi, ho studi per uno scopo. Durante l'ultima assemblea, i membri dell'associazione mi hanno rimproverato di non aver avuto presa, così ho deciso di registrare un altro video di testa. Signor Parrucchi, non ci siamo pronti, il CREATO le ha dato l'occasione di diventare pazzo, impotente e mia moglie. In fondo sono pur sempre una bella donna, invece lei vuole ritornare sulla terra. E allora vada, torni dalle sue ciampiste, dalle sue centraliniste, dalle sue professioniste. Ma ricordi, signora Pisellino, che non avrà mai la bossa e uscena della moglie geriatrica. E come dice il detto, ti esci di strada per una vecchia, sa quello che è sfascia, ma non sa quello che è roba. E questa è proprio una borraccia. Da adesso in poi, signor Pallontini. Ciao. 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 Ciao.